Buon Salvoni, appassionati di football manager, io sono Alessandro, Luclus Games su YouTube e scuola piatta, forma viola, do in live tutti i giorni da lunedì al venerdì, dalle 19, sabato e domenica dalle 17. Oggi parliamo della Challenge di Unai Emery, un allenatore spagnolo che riuscì a vincere 4 Coppe UEFA, come si chiamava una volta. Ne fanno di lui sicuramente un record man, potremmo definirlo un king dell'Europa League, ma non poteva certo essere altrimenti, perché il ragazzo nasce il 3 novembre del 1971 a Undarribia, un paese di circa 15.000 anime nella provincia autonoma dei Paesi Baschi. E lì ci sono un sacco di castelli, per esempio quello di Carlo Guido del VII secolo, oppure quello del 1598, il Castiglio dei Sant'Elmo, anche ricordato come De Los Piratas. Questo perché venne eretto proprio a difesa degli attacchi dei corsari. Quando ancora giocava Unai Emery non era sicuramente brillantissimo, un centrocampista che ha passato più che atto nelle serie inferiori la sua carriera, poi quando ha smesso è partito sempre da lì. Lorca, Almeria, con due promozioni in questi due club. Abbiamo però voluto saltare a questa prima parte, perché comunque le categorie inferiori Spagna non sono sicuramente impossibili. È partito però poi, come prima squadra, in Spagna sempre con il Valencia. Non ha lasciato granché il segno, nel senso che non ha vinto in quella squadra, quindi è passato in Russia, allo Spartak Mosca, anche lì subito esonerato. Mettiamo quindi da parte questa prima parte della sua carriera calcistica da allenatore e partiamo direttamente con lo step numero uno per questa challenge, ovvero il periodo di lui a Siviglia. E qui la situazione si fa interessante, perché Unai Emery arriva a gennaio, quindi a stagione in corso, al Siviglia e riesce a qualificarsi solamente nono, quindi non fa sicuramente un miracolo, però riuscirà lo stesso a partecipare all'Europa League. Perché? Perché Malaga e Raio, le due squadre che scavalcano in classifica, questo Siviglia, hanno dei problemi. Il Malaga ha un fair play finanziario non rispettato e il Raio ha debiti con giocatori e altri club, quindi vengono squalificate e quindi passa in Europa il Siviglia. Quindi si sarebbe potuto partire anche da gennaio e partire da lì, quindi con l'impresa, ma in Spagna abbiamo un problema, si chiama Salary Camp ed è un qualcosa che migliora nel corso degli anni, quindi non volevo agevolazione ed è per questo che partiamo in questa avventura di un Emery al Siviglia direttamente nell'anno in cui lui si gioca e può provare a vincere l'Europa League. Quindi avete tre anni a disposizione in cui dovete vincere per forza di cose tre Europa League. Ma non basta, vi consiglio di vincere qualcosa in più, perché purtroppo nello step numero due, un Emery nella realtà ha vinto quattro coppe nazionali francesi, voi però non potrete mai riuscire a vincere quattro coppe nazionali francesi, questo perché ovviamente non ci sono più due coppe nazionali in Francia come ci sono ancora in Inghilterra, dove ci sta la Carabao e l'EFA Cup, quindi vi consiglio di vincere non solo l'Europa League, ma anche almeno due competizioni a vostra scelta, che non siano chiaramente delle supercoppe, perché sarebbe troppo semplice. Poi, siccome lo step 2 comunque un Emery prende il preso in me, che voi non potrete prendere in questa challenge, perché è resa più complicata rispetto alla realtà, vi consiglio di provare ad anticipare anche alcuni dei trofei che potreste vincere magari solamente nello step francese, così rendete anche più interessante il primo step, quello spagnolo, perché qui vincere il campionato è sicuramente una cosa già fattibile al primo anno, il campionato spagnolo non è assolutamente complicato, quindi è fattibilissimo riuscire già a vincere questa competizione. Lo step numero 2 si fa in Francia, e qui siete obbligati a prendere un team che nell'ultima stagione si è qualificato in Europa League per rendervi appunto le cose più complicate. Qui vi ricordo che un Emery ha vinto due supercoppe francesi, ha vinto quattro coppe nazionali, quindi dovrete sostituire quelle due competizioni con qualcos'altro di vostra scelta, e poi un campionato. Sì, nella prima stagione in Francia un Emery col Paris Saint-Germain è riuscito persino ad arrivare secondo, quindi vi facilita il caso. Certo qualcuno però potrebbe anche dirmi sì ma se ho vinto tutto quello che potevo al secondo step già nel primo, non lo faccio, lo salto. No, qualsiasi cosa voi abbiate già vinto nello step spagnolo, siete obbligati comunque almeno a vincere il campionato in Francia per battere il Paris Saint-Germain, se no che senso aveva farvi prendere una squadra impegnata solo in Europa League che quindi non poteva essere straforte, e anche perché se no sarebbe stato completamente inutile fare lo step francese se vi abbiate già vinto tutto in quello spagnolo. Lo step numero tre è l'ultimo e qui siete obbligati a ritornare un'altra volta in Spagna e prendere per forza una squadra che l'anno prima si è qualificata in Europa League. Qui siete costretti in un solo anno a vincere un'altra volta un'Europa League. Questa è l'anteprima stagionale che ci troviamo di fronte quando avviamo quindi il save. Avviamo due possibilità, o prendere il Betis, che qui viene quotato nono, o prendere la Sociedata, che qui viene quotata sesta per vincere il campionato, però sempre con la stessa quota di 51. Siccome il Betis l'avevamo già utilizzato in un'altra challenge, quest'anno, se vi ricorderete, abbiamo fatto la Remida Challenge, ho deciso di prendere la Real Sociedad per variare un po' la situazione. Vediamo che squadra interessante a Real Sociedad. Quando porto per la prima volta in live questa challenge siamo ancora nel bel mezzo di continui aggiornamenti di gioco, alcuni che riguardano anche l'engine. Voi sapete che quando viene ritoccato l'engine, in quel momento particolare dell'anno, bisogna stare un'altra volta lì a studiarsi le modifiche, che ovviamente gli sviluppatori non ti dicono. Quindi non me la sentivo subito di partire con un modulo creato da zero, che rispondesse in qualche modo alle idee di Emery. Quindi partiamo subito con l'Ancelotti 4-3, ma con l'idea che se passiamo il primo anno poi cominceremo a sviluppare chiaramente un 4-3, basato invece proprio sulle idee del signor Unai Emery. Dobbiamo partire con il 4-3, perché? Perché non ci sono tanti attaccanti nella Sociedad, però ce n'è uno veramente forte, Isaac, che verrà messo lì davanti. Poi ci sono diversi problemi su altre quarti, però, perché alcuni giocatori hanno un piede, alcuni hanno un altro, quindi passeremo dall'Ancelotti all'Ancelotti Reverse. Questo perché? Perché Barencea, bel giocatore, giovane, può crescere tanto, a 19 anni ci vogliamo puntare. Ma c'è anche Yanuzai, altro elemento interessante. Certo, questo non può più crescere, quindi questo più o meno è questo, ci terremo, ma ci sta volendo anche Oiar Zabal, il Baggatone, come lo chiamo io, un giocatore che non ha senso, guardate che voti ha, io continuo a credere che l'hanno fatto un po' in maniera strana in Spagna. Se di fatto questo è un fantastico giocatore, potrebbe giocare su altre quarti, certo, però l'accelerazione di velocità non è che siano proprio altissimi. Può ancora migliorare, perché i giocatori possono anche crescere persino al 25esimo anno di età. Però ho deciso di metterlo qua, al posto di Silva, perché Silva è un giocatore che ormai è troppo vecchio, 35 anni, integrità fisica troppo bassa, non me la sento di lavorare con lui, quindi questo lo andiamo subito a vendere, ahimè. Dopodiché abbiamo un altro giocatore molto importante, sempre a centro campo, Iarra Mendi. Questi due sono giocatori che hanno un peso importante, soprattutto nelle girarchie, Oriazabal, Iarra Mendi e Silva. Questi due decido però di farli fuori, proprio perché hanno un'età un po' particolare e Iarra Mendi è un po' lento, quindi avrò dei problemi a centro campo. In generale, la Real Sociedad è una bella squadra, ma presenta alcuni difetti che vanno in qualche modo smussati col calcio mercato all'inizio della prima stagione, se si vuole giocare appunto con questo 4x3. Poi abbiamo anche a fare con Merino, altro giocatore fenomenale, un giocatore che ancora una volta sembra fatto con l'editor, un giocatore veramente incredibile, pieno di 13, potremmo utilizzarlo come celocampista di quantità. Poi dietro abbiamo anche Zubeldia, altro giocatore molto interessante, però 24enne, quindi anche lui purtroppo non è che abbia chissà quali margini, ma è un giocatore già buono così. L'unico altro giocatore, una volta che si decide di far fuori quelli che vi dicevo, resta Zubi Mendi. Zubi Mendi però ha un problema grave, senza palla 7, quindi decido di mandarlo via in presido. Non lo vendiamo, ma mandiamo via anche Rafinha, giocatore che sicuramente è molto interessante, poteva fare la riserva di Oyarzabal, come celocampista centrale offensivo, perché, diciamoci la verità, potrebbe fare anche Lala, ma è un giocatore che non è che abbia uno sprint particolare. Poi è un giocatore che si rompe spesso, quindi è per questo che lo mando via. Quindi sul mercato dovremmo fare qualcosa a celocampo nella zona centrale, a meno che poi ovviamente non si vuole puntare subito sui giocatori giovani. E questo è un elemento molto interessante, questo Turientes, che però ha solo 19 anni, quindi è meglio mandarlo in presido per farsi le ossa. Un altro giocatore che decidiamo di portare subito in prima squadra è Luca Sangalli, che di base si trova nella Real Sociedad B, che è messo addirittura come trasferibile, ha una particularità. Pur non essendo sicuramente un giocatore stratosferico, è molto trasversale nei valori. Ripeto, qua qualcuno ama veramente la Real Sociedad, tra quelli che fanno ricerca in Spagna. Dicevo, la particolarità è che sa utilizzare entrambi i piedi e lo rendono sicuramente prezioso, quindi via dal mercato, anzi sale in prima squadra. Poi ci sono tanti altri giocatori molto giovani e forti per il futuro, per esempio, questo ragazzo, John, è una punta spagnola di sì, solo 18 anni, ma di sicuro cresce nel corso del tempo. Questo perché, come sapete, se vi ricorderete il video che abbiamo fatto su Wonder Kid, questo rientra proprio tra i Wonder Kid, però ha un PA variabile, e quindi dipende da quello che ci siamo beccati. Sta di fatto che su questo si può puntare più negli anni successivi, ma ce ne sono, ripeto, veramente tanti di elementi curiosi in questa squadra. Per esempio, John Paceco, difensore centrale con piede sinistro, che lo rende molto, molto, molto prezioso. Certo, è ancora troppo giovane, un po' troppo grezzo, ma qual è il problema di base in difesa della Real Sociedad? Che entrambi, i due difensori centrali, che sono sicuramente interessanti per qualsiasi team che voglia vincere l'Europa Liga, sono entrambi destri. Questo è l'Enormanda, e poi ci sta Elustondo, che ha persino 27 anni, quindi purtroppo questo è e questo rimane. Quindi ci servirà un difensore con il piede sinistro titolare, che non può essere certo Paceco, perché è troppo giovane, quindi anche qui dovremo andare sul mercato. Completiamo il reparto difensivo dando uno sguardo ai due terzini. Nacio Morial non sarebbe neanche Malaccio come riserva, visto che ha comunque solamente 13 in a cesione e 12 in velocità. Il problema di questo ragazzo però è che è rotto per 7-8 mesi, quindi in pratica salta tutta la stagione, quindi via il terzino sinistro, non possiamo far altro che inserire al massimo Munoz, che per carità non è sicuramente un giocatore pessimo, ma è ancora un giocatore in crescita, non ha tanti anni davanti a lui per crescere, ma il problema vero è che anche lui purtroppo non è un fenomeno, quindi lo vedo più come possibile riserva. Quindi anche qua bisognerà comprare un terzino sinistro titolare. Goro Sabel potrebbe giocare tranquillamente titolare, è un giocatore che è già buono per vincere un Europa League, però anche qua la riserva non è che sia proprio di altissimo profilo, mentalmente e tecnicamente non sarebbe neanche malaccio, però anche qua 12 soltanto in accezione, 12 in agilità, 13 in velocità, quindi anche qua andrà fatto un terzino. Se sarà addirittura più bravo di Goro Sabel, Goro Sabel salta e verrà messo un terzino di destra. Questa è la rosa della Real Sociedad dove mancano anche delle riserve sulla tre quarti, quindi bisogna andare sul mercato, bisogna andare a coprire quelli che sono i buchi, ma sicuramente ci sta una bella base, una bella base che fa riferimento a un ottimo difensore centrale destro, un discreto portiere anche se non un fenomeno, vediamo anche brevemente Remiro, un portiere che non ha sicuramente caratteristiche particolarmente alte, ma è comunque un profilo trasversalmente interessante. Certo campo, ottimo già così come titolare, ma manca di riserve, tre quarti, ripeto, qualcosa va comprata, punta decisamente stratosferica, però attenzione, serve una riserva per il prossimo anno, non tanto per questo se vuole giocare con una sola punta, perché Sorlot, attenzione, non ha una brutta scheda, è poi molto diverso da Isaac, perché lui punta più sulla fisicità, è un giocatore con un ottimo colpo di testa, sa utilizzare entrambi i piedi, però è solamente in prestito, costerebbe qualcosina se lo si vuole magari riscattare, andiamo a vedere le info sul contratto, 16 milioni di costo futuro opzionale da pagare in cash, il problema però è che il bilancio non è che sia fantasmagorico, solamente 13 milioni come base trasferimenti, e soprattutto il problema vero è qui, e sul monte in gaggi, perché come vi dicevo, qui c'è il salary cap, il salary cap di questa squadra dice massimo 54 milioni, cosa vuol dire questo? Che tu puoi anche avere a bilancio un monte in gaggi di 90 milioni, ma poi i giocatori che potrai registrare per il campionato spagnolo, sono solamente quelli che riuscirai a far entrare dentro questi 54 milioni, quindi il resto lo potrai utilizzare al massimo nelle coppe, magari europee, o nella coppa spagnola, ovviamente però avere giocatori che non vengono registrati per il campionato, ma solamente nelle coppe porta a problemi nelle dinamiche di spogliatori, quindi meglio evitare. 54 milioni non sono pochissimi, ma non sono nulla, se confrontati con quelli del Atlético Madrid, che può avere a regime un salary cap di 160 milioni, simile a quello del Barcellona, che è 161, ma guardate invece chi davvero può fare la voce grossa in Spagna, e spiega perché, spesso e volentieri, il campionato spagnolo lo vince Real Madrid. Salary cap di 313 milioni, il doppio di quello del Barcellona e di quello del Atlético Madrid, sei volte quello della Real Sociedad. 27 maggio 2022, si conclude la prima stagione con la Real Sociedad, non sapete ancora cosa abbiamo combinato, ma partiamo subito dal mercato. Abbiamo detto che ci stavano delle falle che dovevamo risolvere, ma l'obiettivo che mi porta a fare questo mercato è esaltare quelle che sono già le ottime qualità del team, quindi abbiamo comprato un difensore centrale con piede sinistro. In realtà Luis Felipe è un destro, ma sa utilizzare anche il sinistro. Ho provato a comprare qualche giocatore con piede sinistro, ma mi chiedevano troppi soldi. Luis Felipe è un affarone, per circa 15 milioni vi portate a casa un grandissimo elemento che può fare coppia con le Normand. Ovviamente però i difensori sono passati da 3 a 4, ci si arriva anche il quinto, e quindi arriva anche Papetti per chiudere il reparto dei centrali. Dopodiché Grosabel era il terzino di destra, abbiamo detto titolare, si arriva però la riserva che non era all'altezza e quindi arriva Rosas. Rosas è un giocatore che volendo potrebbe anche diventare più forte nel corso del tempo di Grosabel, quindi è anche un acquisto per il futuro, ma il titolare sarà Grosabel. Chiude il reparto difensivo dei titolari Renan Lodi. Terzino sinistro era Munoz, si arriva anche in riserva, e compriamo il Mazz. Il Mazz in realtà lo compro in prospettiva, siccome è molto giovane, mi dico, potrebbe addirittura fare il titolare sulla l'alte sinistra. Gioca malissimo, e quindi a gennaio sono costretto a comprare un altro terzino sinistro. Ovviamente poi, avendo comprato gli ultimi due terzini sinistri, devo vendere Munoz, perché sarebbe di troppo, e quindi mi tocca vendere Munoz. Dopodiché ci concentriamo sul centrocampo. Andava bene, così com'era, abbiamo detto, quindi non andiamo a fare ulteriori acquisti, semplicemente arriva Nico come riserva. Voi direte, ma come? Nico è un giocatore di prospettiva, può diventare forte? Certo, ma io quando compro i giocatori, anche diciamo, pensando all'assostituto, devo pensarli sempre come giocatori molto giovani che potrebbero darmi anche di più in prospettiva futura. Quindi Nico, se ci pensate, perché tutti i giocatori giovani che vado a comprare vanno malissimo e quindi li piazzo subito poi in panchina. Stesso discorso come attaccante esterno. Compro a De Iemi, non avevamo mai provato a De Iemi su FM22, è un giocatore, sappiamo, di sicuro successo rispetto a tutti gli altri difensori centrocampisti e attaccanti comprati in questo mercato, è forse quello con la prospettiva migliore di tutte. Eppure fallisce all'inizio, guardate la media voto, 7-0-9 totale di tutta la stagione, certo ha fatto 13 gol, ma Enesiri in questa posizione ne ha fatto di meglio 7-49, ha giocato meglio. Enesiri non è chiaramente una punta che può giocare sull'out esterno di base, è più una punta che gioca al centro, ma qui c'è già Isaac, c'è Sovrlott, quindi lo provo a trasformare con attaccante esterno. Anche questo, così come le Rolodi, arrivano solo a gennaio per andare un po' a riparare il mercato che non ha esaltato con questi giovani che abbiamo fatto a inizio stagione. Alla fine quindi incassiamo 66 milioni e ne spendiamo 193. Chiaramente la maggior parte di questi soldi sono a Rattel che vuol dire che eventualmente se ci sarà una stagione 2 non potremo comprare quasi nessuno perché andiamo ad impegnare anche il possibile budget della stagione successiva. Tra i giocatori mi ero dimenticato di parlare del solito georgiano del Rubin Kazanna che andiamo a prendere come riserva però perché chiaramente abbiamo già Ander Barencea sulla destra quindi questo arriva per sostituire lui mentre sulla sinistra abbiamo Enesiri Adeyemi e anche Yanozai come quinto giocatore della tre quarti. Vediamo il calendario. L'inizio di stagione non è certo esaltante. Nelle prime quattro partite della Liga già due sconfitte una con il Madrid e un'altra con l'Atletic Club di Bilbao. Pareggio col Barcellona vittoria solamente col Betis in casa. La partita più semplice delle quattro anche se l'unica in casa delle quattro che sicuramente incide poi nel percorso iniziale. Per lo meno la squadra comincia a ingranare soprattutto in Europa League. Vediamo quindi questo girone di Europa League che termina con il Sociedad a punteggio pieno 13 punti poi 8 per il Braga Ganas Rai addirittura terzo finirà quindi in conference. C'è anche tempo per un ulteriore periodo di appanamento tra ottobre e novembre dove la squadra va a fare tre pareggi due sconfitte e poi inizia persino la Coppa del Re. Ora le partite di Coppa del Re sono veramente tante a gennaio quindi mi dico mettiamo riserve se usciamo fa nulla ci riproveremo magari l'anno successivo. Sapete che dobbiamo fare anche delle vittorie accessorie in questo primo step se vogliamo snellire il secondo ma soprattutto ci tocca anche trovare qualche competizione per sostituire quelle due coppe nazionali che ha vinto il signore Merim ma che non sono più disponibili in Francia come competizioni aggiuntive. E andiamo avanti clamorosamente in Coppa del Re perché affrontiamo spesso e volentieri squadre scarse Ferrol Badalona Granada Mirandesh e quindi mi dico ma vuoi dire che arriviamo nelle fasi finali ed è così perché andiamo in semifinale e becchiamo però una squadra tosta stavolta e sì perché più a po' lei deve beccare giustamente quindi 2-1 contro il Barcellona semifinale di andata contatto di espulsione di Ander Barangea al 55esimo dopo essere andato in svantaggio col gol di Ansufati ma Enesiri proprio lui al 95esimo ci regala poi anche la vittoria grazie anche all'autogol di García del Barcellona il ritorno 2-0 ancora una volta due reti che ci portano a fare la finale di Coppa del Re guardate quante vittorie è un periodo molto positivo e inizia anche la fase di emersione diretta dell'Europa League dove ovviamente saltiamo un turno perché siamo arrivati i primi nel girone quindi ci becchiamo nella seconda fase di emersione diretta il Becictas passiamo agilmente non tanto all'andata ma soprattutto al ritorno poi abbiamo ai quarti l'Olympiakos di Pireo altra squadra sicuramente abbordabile per questo Sociedad all'andata 5-2 al ritorno 6-0 non ce n'è per nessuno ma non in Coppa del Re dove abbiamo fatto tanto per arrivarci inaspettatamente e perdiamo ai rigori contro il Real Madrid 1-1 in una partita dominata dalla Sociedad ha fatto un gol su calcio piazzato alla fine Asensio e la pareggia poi si va ai rigori e la perdiamo andiamo avanti perché abbiamo la semifinale di Europa League il vero obiettivo di questa stagione è l'Europa League vincevo 6-0 all'andata contro il Lokomotiv Mosca a ritorno sono ancora 8 i gol che riusciamo a fare alla squadra russa non ci resta quindi che capire cosa potremmo combinare in finale di Europa League il primo tempo di questa partita è veramente bruttissimo molto tattico nessuna delle due che riesce a fare qualcosa poi c'è l'espulsione al 41esimo però dello Shakhtar Donetsk e le cose cominciano un po' a cambiare tutto inizia da qui da questo corner di Oyarzabal che la mette al centro Lenormand poi Zubeldia va a correggere questo corner e andiamo in vantaggio di una rete Lenormand per Nico Nico in avanti per Enesidi guardate che palo lunghissimo ma Enesidi ci arriva comunque riesce a mettere un cross poi anticipa tutti Isaac e fa il gol del 2-0 la finale d'Europa League si conclude al 67esimo con la vittoria della Real Sociedad la classifica finale della Liga Spagnola vede la Real Sociedad vincente per 84 punti Barcellona 76 Riamma di 74 Valencia quarto posto 68 e queste sono le squadre che andranno in Champions League 29 maggio 2023 si conclude anche la seconda stagione con la Sociedad nella prima abbiamo fatto double Europa League e campionato nella seconda però non possiamo fare granché il mercato perché dobbiamo ripagare le rate fatte nella primissima stagione quindi tutti gli incassi dovranno essere devoluti al pagamento delle rate se vogliamo fare ulteriori acquisti tocca autofinanziarsi quindi tante cessioni per arrivare a 22 milioni che poi vanno quasi tutti per pagare tutto in cash Marco Carnesecchi dell'Atalanta che quest'anno vi straconsiglio portiere veramente dominante Carnesecchi è sì l'unico acquisto della stagione ma ci sono anche due promozioni all'interno della top 11 ad Emi pre del posto di Enesidi che diventa poi il sostituto di Isaac perché non andiamo a riscattare Sorrot non avendo soldi in cash e poi ci sta anche Enico che prende il posto di regista mobile titolare del team dopo aver fatto chiaramente un anno di panchina ma guardate i gol che riescono a fare questi ragazzi 35 gol Michael Oyarzaballa che riuscirà a vincere anche il pallone d'oro come andremo a vedere e poi Barencea 24 da a destra 20 anche per Adeyemi attaccato esterno 40 gol per Isaac Michael Oyarzaballa come vi dicevo pallone d'oro davanti a Lewandowski e a Momo Salah in questa seconda stagione siamo però in Champions League e noi dobbiamo per forza provare a vincere l'Europa League da regolamento della Challenge quindi ci tocca arrivare per forza terzi è anche complicato riuscire a far quadrare i conti io vi consiglio di vincere le prime partite e poi di cominciare a perdere punti per essere sicuri quantomeno di non finire quarti perché il rischio poi è proprio quello la stagione però non parte certo benissimo subito sconfitta per tre reti a uno contro il Liverpool di Momo Salah evidentemente siamo una squadra non all'altezza ancora delle manifestazioni più importanti del resto gli acquisti che abbiamo fatto sono più per puntare all'Europa League la Liga Spagnola parte subito però già il 7 di agosto perché questo è l'anno del Mondiale che vuol dire che dopo la partita contro il Borussia è in Champions c'è una lunga pausa fino a gennaio poi si riparte con la Supercoppa Spagnola che non è una sfida secca in Spagna ci sono le semifinali clamorosamente battiamo 7 a 2 il Barcellona ma poi perdiamo l'ennesima volta in finale con il Real Madrid 2 a 1 questo è l'anno del Mondiale si diceva quindi i primi due turni di Europa League sono tutti con sfide secche non si può fare altro che tentare di sperare di giocare in casa noi ovviamente giochiamo fuori casa sia il primo turno all'emersione diretta dove andiamo a vincere contro il Besiktas sia il secondo turno all'emersione diretta che andiamo a giocare in sfida secca contro lo Sporting fuori casa poi finalmente però c'è il ritorno contro il Betis e siamo in finale di Coppa del Re e dopo alcune importanti vittorie in campionato ci sono anche i quarti Europa League questa volta finalmente si ritorna ad andata e ritorno 4 a 0 contro il Villareal poi si gioca anche la finale contro il Real Madrid in Coppa del Re finalmente riusciamo a battere i madrileni 2 a 0 vittoria personale molto importante superiamo anche il Villareal al ritorno dei quarti di Europa League e si va in semifinale contro il Borussia di Mönchengladbach 5 a 0 alla semifinale di andata poi 6 a 1 nel ritorno siamo in finale di Europa League nel frattempo però c'è ancora anche la Liga Spagnola che vede la squadra un po' altalenante in questo periodo ma cosa abbiamo combinato in finale contro i Young Boys seconda finale consecutiva per la Sociedad ed è subito una partita veramente cattiva tanti cartelli gialli questa volta però neanche un cartello rosso la partita si sblocca quindi al 23esimo con questo rigore del pallone d'oro Oyer Zabal che porta in vantaggio la Sociedad poi ci sta anche il tempo per il corner con la Nordic la mette a centro Papetti che fa il gol del 2 a 0 la partita finirà qui Reazzo da 2 Young Boys 0 vittoria numero 2 di fila in Europa League questa è la classifica della stagione numero 2 di questa Sociedad con 96 punti vinciamo il campionato Atletico Madrid Barcelona e Real Madrid andranno in Champions League Almeria clamorosamente insieme a Villareal in Europa League Valencia in Conference questa è la stagione dei record dove il campagoniere della Liga Spagnola è Oyer Zabal da cicci d'attacco primo giugno 2024 si conclusa anche la terza stagione con la Real Sociedad abbiamo visto come la squadra nella stagione precedente aveva fatto man bassa di trofei addirittura piccolo tripletino quindi mi chiedo ma perché dobbiamo andare a fare mercato la squadra va benissimo così lasciamola così non rivoluzioniamo manteniamo sempre intatta quella che è l'anima del club quindi vediamo la top 11 l'unico cambiamento nell'undi titolare è Rosas che prende il posto di Gorosabel questo perché appunto è migliorato era più giovane e quindi è riuscito a guadagnarsi questo posto guardate come i legami sono sviluppati per tutti perché ormai sono sempre gli stessi giocatori e questo è un grande vantaggio quando hai sempre gli stessi giocatori ovviamente poi giocano a memoria 44 gol per Isaac 39 per Adeyemi 17 per Barencea sempre tanti gol per il cicli attacco Oyer Zabal ne fa 30 questa volta anche quest'anno però eravamo in Champions anche quest'anno dovevamo riuscire però a guadagnarci al massimo la terza posizione primo Lipsia secondo Roma terzo rilassosidato quindi ancora una volta siamo dentro l'Europa League l'inizio di stagione sembra però un copione fisso perdiamo ancora una volta contro il Liverpool ancora una volta il Supercoppa Europea questa volta però con una sola rete di svantaggio 3 a 2 hanno fatto gol anche su questa palina attiva con Koundé che vi straconsiglio insieme a Van Dijk ha formato veramente una coppia difensiva clamorosa per il resto poi in campionato andiamo veramente bene facciamo un sacco di punti maciniamo vittorie finché poi non arriva la parte clou della stagione finale di Supercoppa Spagnola vinta ancora una volta contro il Real Madrid che ormai non ci fa più paura quindi primo trofeo di questa stagione in Bacheca dopodiché avanziamo anche in Coppa del Re ma nel frattempo inizia anche ovviamente la fase di emersione diretta che questa volta fa finalmente andata e ritorno Wolfsberg squadra austriaca di poco conto vittoria 3 a 0 andata 6 a 0 al ritorno siamo anche in finale di Coppa del Re dopo aver battuto il Levante in semifinale di andata e anche in semifinale di ritorno guardate quante vittorie in questo periodo veramente ricco di successi poi nella seconda fase in emersione diretta il Garza Rai che riesce a farci 5 gol tra andata e ritorno ma noi ne rifiliamo 9 quindi superiamo anche questa sfida importante guardate qua che risultati rotondi che arrivano durante l'arco della stagione 8 a 0 al Ghettate 8 a 4 all'Espagnol nel frattempo però ci sta anche lo Stella Rossa ai quarti di Europa League 3 a 0 all'andata fuori casa 4 a 0 al ritorno siamo quindi in semifinale di Europa League ma soprattutto vinciamo la finale di Coppa del Re contro il Betis per 3 reti a 0 quindi secondo trofeo in bacheca di questa terza stagione la Liga poi prosegue perché bisogna arrivare anche alla semifinale di Europa League contro il Celtic 5 a 0 all'andata e addirittura poi 2 a 0 al ritorno siamo quindi in finale di Europa League per la terza volta di fila la terza finale di fila per questo Real Sociedad sarà contro il Friburgo e giochiamo solamente noi nel primo tempo ma chi va a fare gol guardate chi Shade una azione pazzesca di questo ragazzo che se gli tratterà C sembra quasi il nome del rapper Vito Ventura torinese 1 a 0 per il Friburgo io tremo ma nel secondo tempo finalmente la squadra comincia a ingranare anche in termini di occasioni Turrientes va fino in fondo la palla per Isaac che brucia il portiere che non esce grave errore e Isaac riesce quindi a pareggiarla poi però c'è anche la possibilità per Lenormand così al volo di chiudere la partita 2 a 1 con un solo gol contro il teutonico Viburgo riusciamo a portarci a casa la terza Europa League di fila c'è tempo anche per il quarto trofeo della stagione numero 3 della Sociedad ovvero terzo scudetto di fila con 110 punti avete capito bene record assoluto della Liga Spagnola abbiamo fatto 36 vittorie due pareggi distruggendo completamente qualsiasi avversario in Spagna l'aspetto però curioso di questa vicenda è che nonostante tutti i trofei vinti tutti i soldi portati a casa da questa enormità di successi il nostro Salary Cup alla terza stagione è solamente di 71 milioni ed è questo il vero problema che voi potete avere in Spagna la gestione del Salary Cup secondo me su FM non è fatta benissimo non è possibile che noi dopo tutti questi successi che ci fanno vincere il primo step della Emery Challenge non è possibile che siamo costretti a questo budget che non è assolutamente bassissimo per carità ma non è paragonabile a quello di Atletico Madrid Barcellona e Real Madrid inizia lo step numero due di questa challenge si vola in Francia e dobbiamo prendere la squadra che alla terza stagione ovvero la 23-24 si è qualificata in Europa League abbiamo due scelte Lione o Sant'Etienne opto per il Lione perché dobbiamo vincere un sacco di cose importanti difficili e non mi sembra il caso di battagliare per lo scudetto contro il Parigi Man con il Sant'Etienne tra l'altro il Lione fa comunque 21 punti in meno rispetto al Parigi Man che non ha asfaltato comunque il campionato ben due sconfitte con Monaco e Sant'Etienne e anche 6 pareggi tra cui 1 con il Lione ricordiamo cosa dobbiamo vincere però una Emery in Francia ha vinto 4 coppe nazionali ma sappiamo che ormai ce ne sta semplicemente una quindi in due anni al massimo ne potremo vincere due le abbiamo però già vinte in Spagna le altre due coppe nazionali che non ci sono più vanno sostituite con altro abbiamo già vinto 3 scudetti in Spagna quindi possiamo mettere da parte anche quest'altra sfida poi ha vinto due super coppe nazionali una abbiamo già vinta quindi in Spagna ci rimane un'altra da vincere in Francia e poi ci rimane da vincere lo scudetto quello si sarà veramente tosta contro il Paris Germain siamo al 29 maggio 2025 quindi di fatto la stagione in Francia si è già conclusa con noi a comando del Lione non sapete ancora come ma vediamo come ci siamo mossi sul mercato perché abbiamo attuato una strategia simile a quella della società cioè andare a spendere più che altro già la prima stagione per poi diciamo non toccare la squadra eventualmente nella seconda quindi abbiamo speso 47 milioni per Giori mio pupillo come sapete l'ho sempre avuto nelle stagioni anche di FM precedenti poi abbiamo Anthony prelevato dall'Ajax per 44 milioni acquistone Raspadoli da Atalanta per 37 Moise Ken dall'Iuventus per 30 Vicario dall'Empoli che è un portiere veramente assurdo quest'anno Di Marco dall'Atletico di Madrid Arana dall'Asenal per 14 milioni La Font dal NAN per 11 milioni e poi queste altre due operazioni diciamo secondare ma questo è l'elemento curioso di questa avventura e ora vi spiego il perché guardando le regole del campionato francese ovviamente in Francia così come in altri paesi c'è sia la sessione di mercato invernale che quella estiva ma in questo paese in particolare c'è una campagna Jolly che va dal 1 settembre fino al 31 dicembre dell'anno in corso dove la campagna Jolly permette di comprare un giocatore extra da qualsiasi squadra però francese quindi è come se fosse aperto in mercato solamente però per comprare un giocatore che può essere anche di movimento ma noi compriamo La Font il 27 settembre perché? perché il nostro portiere titolare era Anthony Lopez un giocatore veramente pericoloso perché ha 12 in eccentricità e mettendolo come portiere libero se ne usciva completamente fuori dall'aria di rigore in diverse azioni mettendomi le mani nei capelli e vedendo sempre partite che potevano essere rovinate da quelle uscite quindi decido di prendere un portiere un po' più sicuro già al terzo anno con la Real Sociedad andiamo a giocare anche con questo modulo l'Emery 4-3 vi avevo detto che avrei creato durante questa challenge anche un modulo basato sulle idee di Unai Emery e ci è venuto fuori questo 4-3 con due terzini putificanti e due attaccanti esterni quindi rispetto a L'Angelotti è un modulo diciamo simmetrico tre centrocampisti già presenti dal primo anno a Lione poi abbiamo anche una difesa però completamente rivista Malanzar e Boubacar Camara come centrali Malogusto e Di Marco come terzini di spinta vi consiglio quest'anno Di Marco lo si prende veramente a pochi spicci ed è molto bravo anche sui calci piazzati Ghiuri e Anthony sulla tre quarti e lì davanti Moise Ken questo è il team che utilizzeremo in questa prima stagione vediamo subito i gironi di Europa League dove riusciamo a battere Betis Azed e Slovan Bratislava quindi ci qualifichiamo come i primi del girone con 32 gol fatti e solo 4 gol subiti la stagione in Francia non parte assolutamente male addirittura con un 4-1 alla prima giornata di campionato poi però arriva subito il pareggio contro il Saint-Étienne alta squadra che avremmo potuto prendere come ti hai visto in precedenza certo non mancano anche le vittorie rotonde 8-0 contro il Metz 8-0 contro Slovan addirittura c'è spazio per fare un 9-0 al Betis ma arriva subito una sconfitta coccente contro il Paris Saint-Germain in Coppa di Francia perlomeno ci riprendiamo in campionato con una serie di vittorie poi però inizia anche l'Europa League dove ovviamente siamo in seconda fase ad eliminazione diretta abbiamo saltato un turno stiamo direttamente agli ottavi superiamo il Borussia di Munchengladbach sia l'andata che è a ritorno ma poi la situazione si complica perché sembra piuttosto avere a che fare con la Champions League becchiamo il City ai quarti 1-0 e poi Piero Tecnico 3-3 in casa nostra a ritorno siamo per il rotto della cuffia arrivati in semifinale dove come al solito becchiamo una squadra più da Champions l'Inter 5-0 vinciamo all'andata poi perdiamo a ritorno 1-0 siamo in finale dell'Europa League vi ricordo che noi non siamo assolutamente obbligati a vincere l'Europa League ma se riuscissimo a vincere questa quarta Europa League potremmo anche saltare lo step in Spagna dove il signor Emery ha vinto solamente l'Europa League la finale Europa League ce la giochiamo contro l'Everton abbiamo affrontato forse avversari più forti all'inizio ma attenzione perché comunque è una squadra inglese e ovviamente le squadre inglesi hanno poi tanta disponibilità economica sta di fatto che la partita al sesto prende una piega non troppo negativa con Gusteau che arriva fino in fondo poi la va a scambiare con il signor Anthony spesso e volentieri vanno a scambiare la palla questi due ragazzi con questo modulo alla fine però la palla arriva al centro dove il centrocampista del Lione riesce a sbloccare così l'incontro per noi ma poi doccia fredda corner per l'Everton pareggio 1 a 1 tutto nel primo tempo tutto da rifare tutto da rifare però nel secondo tempo quindi con Anthony che la gira a Kane ancora a Paquetà Yuri guardate che bellissimo scambio poi con Anthony che la rimette al centro facile facile perché 2 a 1 e finisce qui l'avventura in Europa League per il signor Everton perché il Lione se la porta a casa con questo 2 a 1 quarta Europa League vinta il PSG di Angelotti arriva fino alle fasi finali della Champions League e quindi perde punti per strada in campionato favorendo la vittoria del Lione con questi 90 punti che non sono affatto pochi due sconfitte tre pareggi abbiamo fatto meglio del PSG dell'anno prima con 113 gol fatti e solo 21 gol subiti vinciamo anche il campionato non ci resta altro da fare nella seconda stagione che vincere la Supercoppa nazionale francese trofeo dei campioni che tra l'altro vinciamo per 5 reti a 0 subito contro il Monaco la nostra stagione si è messa subito bene con questa vittoria ma perdiamo un'altra volta per l'ennesima volta la Supercoppa europea ma guardiamo l'albo d'oro perché qui c'è da vedere una cosa molto interessante ci avevo parato due volte con la Sociedad a vincere questo trofeo e due volte sono andato secondo perdendo poi me ne vado io e grazie al mio risultato in Europa League guardate chi riesce a vincere con la Sociedad proprio contro il Liverpool questa competizione Guardiola lui mi manca di rispetto e mi guarda anche con sufficienza guardate questo sguardo è rivolto solamente al sottoscritto 31 maggio 2026 questa seconda stagione si è conclusa ma non abbiamo fatto assolutamente operazioni di mercato particolari questo ragazzo tra l'altro è stato comprato direttamente dalla società non dal sottoscritto perché non ci stava nulla ovviamente da comprare la squadra era già ottima così quindi andiamo semplicemente a confermare esattamente l'11 titolare dell'anno prima in questa quinta stagione della Challenge però non abbiamo più obblighi di fare l'Europa League quindi possiamo giocarci la Champions League con tranquillità e in questo girone che sembrava assolutamente più preoccupante per il Celtic e per il Benfica diventa invece preoccupante per il Manchester che finisce terzo e finisce a giocarsi l'Europa League noi ci qualifichiamo come i primi l'unico crucio di questa seconda stagione è però più la Coppa Nazionale la campionata l'avamo già vinto la Champions League come avete visto ci siamo già qualificati per agli ottavi e poi inizia la Coppa di Francia stavolta superiamo a gennaio il turno numero 10 e andiamo avanti superiamo anche i turni successivi superiamo i quarti e poi inizia la Champions League agli ottavi ci becchiamo la Roma vinciamo 3-0 all'andata e poi vinciamo anche 4-1 ritorno nel frattempo c'è anche un pilotecnico 7-1 in semifinale sempre contro gli amici del Monaco e quindi siamo in finale di Coppa di Francia ci sono risultati veramente allucinanti con il Monaco 7-0 anche sempre in campionato poi ai quarti becchiamo il PSG squadra sfida totalmente francese 3-0 all'andata 2-1 perdiamo al ritorno ma siamo qualificati quindi in semifinale di Champions League la nostra prima partecipazione in questa challenge andiamo avanti perché vinciamo il Bayern Monaco per quanto riguarda la semifinale 3-1 vinciamo poi 3-2 al ritorno siamo in finale di Champions League nel frattempo vinciamo anche la Coppa di Francia per 6-0 chiudiamo tutti i conti con Unai e Meri ma tocca capire cosa succederà in finale della Coppa dalle grandi orecchie finale di Champions League che si giocherà contro il City squadra sicuramente ostica da affrontare soprattutto in finale ma la sblocchiamo subito così con un corner di Marco per la testina di Camerà al già settesimo poi rimessa trale Guy che la gira ancora a Di Marco che la mette bassa intelligentissimo questo passaggio per Guy che poi fa fare il gol a Anthony facile facile 2-0 ma era un City sicuramente uno scarso guardate che avevano lì davanti anche se hanno fatto una scelta molto curiosa Bernardo Silva come attaccante certo Bernardo Silva ha le doti per fare anche la punta e per non farci bastare assolutamente nulla completiamo proprio il triplete vero e proprio vincendo il campionato 100 gol fatti meno però di quelli del PSG che arriva a 104 anche miglior difesa per il PSG che fa 93 punti ma noi 2 punti in più 95 per caso che non è però il record in Francia fatto dal PSG nel 2015-2016 dove hanno fatto 96 punti anche però è vero che il format nel corso di questi anni è cambiato perché la Ligan nei primi due anni ha 20 squadre adesso invece dal terzo anno in poi in realtà ne ha 18 quindi non male comunque per questo lione dei record finisce quindi qui il video sulla Emery Challenge dove vinciamo 5 volte di fila la finale di una competizione europea e lancio quindi il guanto di sfida all'originale un'ai Emery forse un giorno riusci a vincere tutto quello che ho vinto io qui su FM a parte gli scherzi non mi resta ad affare che salutarvi vi ricordo che ci vediamo sempre qui su YouTube per un altro video su FM 2022 e tutti i giorni in live dalle 19 da lunedì al venerdì e dalle ore 17 sabato e domenica buon salvone grazie a tutti